comunque questo è il mio minecraft e alcune volte si bagga aiuto e non smetti di buggarsi giuro che uccido si ok grazie allora vi mostro come la mia casetta questo è il di sopra aiuto poi vi chiedete scusa o vi chiederete cosa è successo con le scale giusto e cosa c'è dietro con la porta misteriosa c'è un piano tutto dietro però hai cinque secondi per smetterlo stai a fare? stai ridendo di me per caso? no mi sto gratta per caso io quasi me lo gratto comunque quella era la mia stanza di vatro e ora quando si questo 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 oh giusto questa è una bambina non mi dire che si sfasciava è un po' è un po' è un po' è un po' ok ho chiuso per sicurezza comunque io faccio il più possibile con questi commenti mi dovete dire come diciamo è comunque chi indirà verrà salutato da me nel mio canale voi chiederete cosa c'è qua sotto già potete immaginare che c'è qualche cosetta ok vabbè ma perchè si paga di gioco sotto al piano terra come potete vedere aiuto c'è rotta a metà scala come cavolo faccia salina c'è rotta a metà scala c'è rotta a metà scala c'è rotta a metà scala 9 in 3 ma io si paga scala a casa e se no questo video l'abbiamo fatto a 0 0 31 ma perchè prendi la partita vabbè comunque in caso in caso stai giocando a minecraft eccomi io ora qui metterò una cosa attorno per non passare bene da nessuno ok però voi se volete venire nella mia cosetta dovete stare insieme solo per me se volete venire a trovarmi venite ho sentimentato una bricotta 5 5 5 aiuto 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 perchè si deve andare a dormire? ok ecco il mio conigliato pacciucchino ma le dita me le do mangiare e io come faccio a salire? tu stai scazzata come c'è che ho le rose? stai in buro offi ora vi faccio vedere quale è l'app che è di questo gioco ok se la potete scaricare sui smartphone di qualcun altro questa qui questa non le altre questa qui order craft comunque io ora gioco a blockcraft e vabbè perchè ho un conto in sospicio con blockcraft ma i tre giochi di minecraft quel minecraft blockcraft e minecraft arco sono madonna mia sono però almeno so che questo è il gioco cioè allora ti scarichi tutti i miei giochi di che pensi ho di cosa vuoi vabbè e 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 come potete vedere questo qui non si bagga hanno copiato la casa tua no questo è il mondo nostro dell'anno scorso vuoi salì la riconosci da ovunque ti ricorda che io di nascosto mi ero fatta quella a casa e hai detto ma di chi è questa casa chi l'ha fatta e io ti avevo detto scusa Katri ma l'avevo fatto io perché ma a quanto sono stupida non ho fatto una porta oh oh madonna perché si bagga pure questo non è che si bagga cioè ma 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 sono stupida ma ma sono stupida ma 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 Grazie a tutti.